Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Parrucchie e Parrucchini e Ozzy Parrucca con il recensione. Materiale, capelli reali colore, come le foto lunghezza. 20 pollici in genere la dimensione di testa è 22.5 pollice 6. Una richiesta speciale può essere fatto in altri formati. Questa parrucca è fatto dal capelli reali, quando indossa, sembra gli capelli veri. Materia di capelli reali. Lunghezza è 20 pollice. Può lavare. Proprio come la cosa reale da indossare. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.